Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV e ancora allarme truffe nel territorio aretino. Soltanto nelle ultime ore si sono verificati altri episodi che hanno destato molta apprezzione soprattutto in Casentino e in Val di Chiana. La dinamica è stata la stessa. In entrambe le circostanze finti carabinieri hanno cercato di intimorire persone anziane raccontando che i figli rischiavano il carcere e così si sono fatti consegnare denaro e preziosi. Nel primo caso a finire però dietro le sbarra è stato un 57enne originario di Napoli per giunta evaso dagli arresti domiciliari dove si trovava per reati analoghi. Nell'altra vicenda invece è scattata la denuncia a piede libero per un 18enne presunto autore di altri due raggiri avvenuti nel Cortonese. Ieri vi abbiamo già anticipato di questo ennesimo furto in abitazione. Ad Arezzo oggi ha voluto parlare proprio la vittima del furto, un imprenditore orafo che peraltro era stato vittima di un altro importante furto, in questo caso proprio nella sua azienda che poi è stato costretto a chiudere. Sentiamo. Fuori ci sono delle scale, molto probabilmente hanno utilizzato questa scalinata per poter accedere alla terrazza? Sì, da questa scalina è arrivata tutto fino a qua e l'ha forzata la persiana, l'ha aperta e hanno fatto tutto quello che c'è da fare. Un furto in abitazione ad Arezzo, nella centrale via della Chimera, è in pieno giorno. Vittime un imprenditore e sua moglie, lui indiano da anni residente in città, lei originaria del Bangladesh. Questa era la serratura? Sì, tutta la rotta, tirata alla porta. La coppia all'ora di pranzo è rientrata in casa e ha trovato l'appartamento completamente a suo quadro. E' un disastro dentro, tutto bastito, tutte le cose intera. I ladri sono riusciti a portare via preziosi e contanti. 2000 euro contanti, e più c'era oro nel mio colane, da lei colane, bracciali sono tutte più o meno, era 300 grammi di oro. Nel luglio del 2022 a finire nel mirino dei ladri era stata l'azienda della coppia che si trova a pochi passi dall'abitazione, un colpo che aveva messo in ginocchio l'attività oggi chiusa. Perché non ce la fai lavorare lì dentro, per questo ha cambiato proprio l'attività e ora è successo a casa. Come ci si sente? Presi di mira? E' molto male, molto male. Non si dorme nemmeno a notte per bene, perché non siamo sicuri di nessuna parte. Sul caso adesso sta indagando la polizia. La città una volta era sicura, oggi non possiamo dire che è sicura. E' un altro furto invece, lo ricorderete, era accaduto circa un mese fa, consumato all'interno di una scuola aretina. Parliamo dell'istituto Margaritone di Via Tricca, circa 70 i tablet che vennero rubati, quindi con un danno davvero molto importante per la scuola e per la didattica. Grazie ad una gara di solidarietà i tablet sono stati ricomprati. Quel giorno mi sono vista un po' cadere il mondo addosso, perché vederevi e portare via tante cose mi ha un po' destabilizzato. Era la notte del 6 settembre scorso, quando a pochi giorni dal suono della prima campanella l'istituto comprensivo Margaritone era stato colpito da un raid di ladri che avevano saccheggiato la scuola di Via Tricca. Nel bottino 100 tablet per un valore complessivo di oltre 70.000 euro. Immediato l'appello della dirigente scolastica alla comunità di Arezzo, che ha prontamente risposto presente. Una vera e propria gara di solidarietà alla quale hanno partecipato genitori, imprenditori e aretini, oltre che ovviamente l'istituto scolastico. Siamo riusciti appunto con la nostra richiesta a trovare una risposta, una risposta come senso di appartenenza alla comunità. Questo è il messaggio che ci è pervenuto, quindi la scuola ha raggiunto il suo obiettivo. Grazie alle donazioni la scuola ha di nuovo a disposizione una settantina di tablet per i suoi ragazzi. Sono contenta perché la risposta è stata immediata e abbastanza consistente. Gli strumenti saranno un alleato soprattutto per i più fragili, ma non solo. Il furto dello scorso settembre aveva infatti messo a repentaglio il progetto Classroom 4.0. Quindi una didattica integrata ovviamente, questo tendo a specificarlo. Quindi questa progettazione che vedrà coinvolte circa 14 classi tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria. Con le altre tecnologie che erano già a disposizione della scuola avremmo comunque supportato gli alunni che hanno dei bisogni educativi speciali e ampliato un po' quella che è la progettazione nel prossimo triennio. Ma c'è ancora bisogno di un ultimo sforzo. Serve comunque perché hanno rubato anche dei notebook, i notebook che ci servono per utilizzare digital board oppure l'IM. Parliamo ancora di una scuola, ma questa volta dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno, il professionale che è inagibile dopo il crollo di un controsoffitto in un'aula. Questa mattina c'è stato il sopralluogo da parte delle istituzioni, comune, provincia, presente ovviamente anche il personale scolastico. Sentiamo allora quali sono state le rassicurazioni proprio da parte della provincia di Arezzo. È stato personalmente il presidente della provincia di Arezzo nelle scorse ore a fare un sopralluogo all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, la cui sede è inagibile dall'inizio del mese di settembre dopo il crollo del solaio e del controsoffitto in un'aula. Innanzitutto abbiamo fatto una verifica, un sopralluogo con tutti i consiglieri, sia di maggioranza che minoranza, con i rappresentanti anche del comune e della stessa scuola perché ci sembrava giusto quantomeno andare a fare una verifica interna della struttura anche per capire, percepire con mano. E lo abbiamo fatto nel momento giusto perché è evidente nel momento dell'emergenza, nella fase dell'emergenza era necessario intervenire soprattutto per capire se la struttura in sé sia norma oppure no e da questo punto di vista noi abbiamo una relazione, i nostri tecnici hanno fatto delle verifiche e di fatto la struttura in sé come alimenti strutturali è idonea. Quello che ha subito naturalmente il problema che è questo distacco è su una determinata aula e ci sono altre due o tre aule dove c'è un rischio significativo più altro ma su elementi secondari, dunque non strutturali. E il focus invece, i problemi sono legati a una porzione molto piccola di questa scuola e dunque questo è da un punto di vista delle conoscenze della cognizione. L'indirizzo Moda è stato recentemente spostato a Montevarchi nei locali della parrocchia ma tutti gli altri studenti sono costretti a fare lezioni altrove. Ora il passaggio successivo, evidente noi non possiamo intervenire su tutte le aule per renderle da questo punto di vista cambiare tutta la struttura ma dovremo intervenire in modo graduale. Lo faremo dove il rischio è più alto e dopo lì faremo un intervento complesso. Sulle altre dove il rischio non è significativo, così parlano i tecnici, utilizzeremo dei sistemi che sono di contenimento. Sono sostanzialmente delle brache, delle briglie che andranno a per evitare che un domani ci possano essere determinati distacchi che però, ripeto, la maggior parte delle aule sono solo listelli, non c'è un peso sopra una superfettazione che possa creare problemi per i studenti stessi. Noi abbiamo fatto fare già una prima verifica per il finale da tecnici esterni, abbiamo già ordinato il materiale perché non è facile reperire questo materiale, c'è solo una società, una ditta in tutta Italia che lo rende disponibile e lo certifica soprattutto, questo è l'elemento importante. Abbiamo già individuato la ditta che poi farà il montaggio di queste strutture, dunque noi contiamo che in poche settimane ci possa essere un rientro graduale su tutta la struttura. Il Comune di Arezzo ha partecipato al workshop organizzato dall'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano Cloud nella pubblica amministrazione italiana verso la nuvola e oltre. Unico ente locale invitato a prendere parte all'evento avendo già completato lo scorso 17 luglio con successo e in tempi rapidi la migrazione al cloud nell'ambito del progetto PNRR dedicato. Il contributo è stato tra quelli in programma della tavola rotonda, esperienze di migrazione al cloud tra benefici e criticità al quale hanno preso parte il direttore del Dipartimento Tecnologie di Trento e il responsabile della transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo del fatto che ad Arezzo tornerà uno sportello per fornire ascolto e supporto per combattere le dipendenze. Uno sportello per fornire ascolto e supporto per le dipendenze. Torna così ad Arezzo il progetto nato dalla collaborazione tra Acli e la Ollus Fiorentina Gruppo 13. La persecuzione è un'esperienza che aveva già avuto momenti positivi con le Acli negli anni passati, precedenti al Covid. Poi c'è stato il periodo che ha un po' interrotto tutto, adesso abbiamo ritenuto importante proseguire questa esperienza perché, ripeto, è estremamente utile per il compito che svolge, quindi vogliamo riprenderla e riportarla avanti e consolidarla. A partire dal 10 ottobre sarà attivato il centro rivolto a ragazzi e adulti affetti da dipendenze di ogni tipo, droga, alcol e gioco per strutturare un percorso motivazionale, psicologico di recupero e reinserimento sociale in affiancamento alla famiglia. Noi siamo un'associazione che collabora con San Patrignano. Collavora con San Patrignano cosa vuol dire? Vuol dire che noi accogliamo ragazzi con problemi di dipendenze, quindi tutte le dipendenze, che esprimono il desiderio di poter essere accolti in comunità e noi diciamo, cerchiamo di aumentarlo questo desiderio. Noi abbiamo anche un gruppo di genitori, una volta alla settimana ci riuniamo, un gruppo di auto aiuto dove i genitori esprimono le proprie difficoltà, il proprio dolore, la propria angoscia. Poi quando i figli sono entrati in comunità loro esprimono la gioia e condividendo tutte queste emozioni si aiutano l'uno con l'altro e non si sentono più soli. Il servizio sarà fornito gratuitamente tutti i martedì dalle 9 alle 12.30 alla presenza di un operatore in via Margheritone 13. I piccoli pazienti dell'ospedale San Donato di Arezzo sabato prossimo riceveranno una visita davvero molto particolare. arriveranno infatti nei reparti appunto di pediatria i supereroi tra cui Capitan Marvel, Capitan America, Spider-Man, Iron Man e Hulk. I loro supereroi preferiti infatti faranno loro una visita scendendo dal tetto dell'ospedale appunto dove i piccoli sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie, ovviamente quella contro la malattia. A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini saranno i volontari dell'associazione senza fini di lucro supereroi acrobatici. Il parcheggio Eden di Arezzo è già chiuso da alcune ore e anche le aree che poi interesseranno il mercatino internazionale perché appunto si sta allestendo l'edizione 2023. Prenderai il via al ritmo di samba l'edizione 2023 del mercato internazionale di Arezzo il taglio del nastro della 17esima edizione allo stand brasiliano Maracanà. Oltre 300 gli espositori che arriveranno letteralmente da tutto il mondo e che accompagneranno i visitatori per tre giorni fino a domenica 8 ottobre in un viaggio del mondo in pochi chilometri. Torniamo ai livelli altissimi, oltre 300 espositori, 190 stranieri, oltre 90 eccellenze no gastronomiche non solo del nostro territorio e oltre 20 produttori agroalimentari. E quindi davvero un numero importantissimo che conferma l'importanza di questa manifestazione anche a livello turistico. Tra gli appuntamenti da non perdere il concerto live del gruppo UMA Groso in programma sabato 7 ottobre alle 21 in piazza Sant'Agostino. Sì, diciamo che il format rimane quello classico, quindi il giro del mondo del gusto con tanto artigianato, prodotti no food, tante novità da tutto il mondo ma anche la presenza appunto di eventi collaterali come in piazza Sant'Agostino dove grazie alla collaborazione con i commercianti della piazza ci sarà uno spettacolo musicale molto importante sabato 7 ottobre alle ore 21 con gli UMA Groso live. Confcommercio insieme agli operatori della piazza hanno regalato quindi in queste tre giorni alla città questo bel evento. E questo fine settimana torna anche l'evento nazionale Urban Nature alla festa della natura in città con appuntamenti in tutta Italia tra cui Castiglion Fiorentino. Lungo Corso Italia verrà allestito uno stand dove poter acquistare una pianta di felci simbolo di questa iniziativa promossa dal WWF con il patrocinio della Proloco e del Comune di Castiglion Fiorentino. Un'iniziativa nata per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani. Lo avevamo già detto nel nostro Tg di ieri oggi c'è proprio un commento da parte del diretto interessato assolto con formula piena nelle scorse ore Il Tribunale di Arezzo ha chiarito la mia posizione giudiziaria in merito ai fatti contestati dagli inquirenti e risalenti ai tempi della mia presidenza dell'Arezzo Calcio Ad affermarlo è appunto l'imprenditore ed ex presidente Amaranto Marco Matteoni Sono molto contento, ha detto per questo pronunciamento visto e considerato che si riconosce e si stabilisce la mia totale estragnetà ai fatti In questi mesi di processo sono rimasto in silenzio nonostante un tritacarne mediatico dice ancora fatto di bugie e illazioni tuttavia non ho mai smesso di credere nella giustizia consapevole della correttezza del mio operato aspettando con fiducia e speranza questa sentenza Adesso invece siamo allo sport, insomma quello giocato si va verso il pienone al comunale lunedì sera alle 20.45 infatti in programma Arezzo Cesena una delle partite più attese della settima giornata la gara verrà trasmessa in diretta su Sky e Now ma è probabile che vengano superate le 5.000 unità allo stadio per la prima volta quest'anno potrebbe registrarsi il tutto esaurito anche nel settore ospiti 800 i biglietti a disposizione dei Cesenate ed infine parliamo di basket che arriva anche a Badialpino nel comune di Civitella in Valdichiana perché quest'ultimo e la SBA hanno appunto unito le forze per sviluppare la pratica di questo sport attraverso l'attivazione di un nuovo corso che è partito proprio nella prima settimana di ottobre ed è rivolto a bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni gli allenamenti sono ospitati nella palestra comunale di Badia Alpino è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortesa e attenzione e arrivederci